enjoy signori rando qui con voi e quest'oggi siamo qui nel secondo episodio della duo loud in compagnia mia quest'oggi signori c'è come sempre diavolo uè ragazzi come va spero tutto bene citazioni nessuna è roba originale e oggi signori ci troviamo in night club dopo che abbiamo fatto il colpo in banca denaro abbiamo preso proprio tutti i borsoni adesso andiamo a farci il night club apocalisse in due loud quindi proseguiamo con il secondo episodio ragazzi abbiamo già registrato un altro video che caricherò come terzo perché ci è venuto strafigo ed è una missione bellissima che non vi spoilereremo e oggi andiamo ripeto guardate guarda guarda non faccio mai in tempo prende sempre tutto lui prima e poi ovviamente rest in peace microphone ma questa è la particolarità del buon diavolo pieno di vita e un microfono spettacolare detto questo con la beat dodge si parte ignoranti go 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 andiamo di ignoranza proprio ignorantissimi proprio maschera adesso la terremo la tanica ok sbam 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 è sempre lì sopra perfetto ok io faccio partire il trapano sta sparando e non mi prende mi sa anche che mira che ha però qua c'è qualcosa che potremmo fare che non lo vedo dove sta la tessera non la troviamo l'ho già trovata però ok vai a vedere ok non c'è la prossima volta dovremmo cercarlo perché qua c'è tipo il capo del nightclub in cui ha una scheda in più ah ok comunque ragazzi vedete da qui potete vedere se c'è la safe ok in questo caso vedete che lì è bianco vuol dire che c'è la safe perciò è importante sapere che si può usare diciamo la tessera per aprire qui così vai a botta sicura lui mette il trapano lì e già abbiamo sicuramente una safe appunto da aprire e se contiene il denaro è poi quello che ci serve a noi che sono quattro borsoni nel frattempo apriamo qui e qui perché è probabile che poi magari la safe con i reali soldi quindi il denaro quindi l'obiettivo della missione arrivino io direi di non aprirla quella porta che mi pare che non la aprono no no ok infatti appunto quindi niente ragazzi io adesso chiederò a diablo ovviamente che siccome io mi sono dimenticato una cosa importante è lui che deciderà quanti like dovete mettere voi per fare il prossimo episodio per fare questo nightclub diablo quanti like secondo te siano giusti comunque siano onesti 999 like 999 like ragazzi oh raga non uno in più non uno in meno mi raccomando 999 like sennò diablo non vuole assolutamente fare il prossimo episodio medico morto i taser poi arrivano sempre in coppia guarda il nostro nemico random come va a terra perché sta morendo così oh dio madonna guarda 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 no tre dozer eh cosa no vabbè non ci vogliono far e guarda cosa sta arrivando di qua oh mio dio cosa sta succedendo random tipo che non ho sfida oggi eh un altro dozer da sopra arriva via 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 dalle palle d parishionere medio morto sono 2 dozer i kick mi ha fatto un 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 clocker che non so da dove mi ha preso cioè sinceramente aiuto random e no scappa da qua scappa fra poco ok madonna mia cosa sta qua vai ok Di curare però Oh no Ha funzionato Ok calma Anche per me Ok stai qua Ok mortal dozer Ok Tranquillissimo Ok calma Faccio ripartire Ma siamo seri Cosa succede? Succede che voglio far ripartire il trapano Ma c'è il taser C'è il mondo Ok sto facendo ripartire Ma arrivano altri ovviamente Via via Oddio Ok facciamo ripartire il trapano Finalmente E ragazzi Lasciate un commentino davvero Se siete d'accordo che 990 like Siano una cifra onesta E soprattutto per far sì Che mi dimostriate Che la vostra La serie vi piaccia La nostra duo loud Dove porteremo Non tutte Come ho detto anche nel Nel video diciamo Di presentazione Nell'intro Ma comunque Molte missioni loud In due apocalisse Che ci si diverte Mamma mia Feriscono come i pazzi E come vedete ragazzi Noi stiamo Stiamo evitando Diciamo di usare Le taniche per ora Vorremmo tenerle Per il secondo assalto Perché è la cosa Secondo me Più Secondo noi Comunque più che altro Più Più logica Diciamo Assalto finito Perfetto Assalto finito E via Comunizioni Ok Qua aperto Qua non c'è niente Diarlo Aspetta che qua C'è tanta gente Qua sopra Va bene Va bene Qua non c'è niente Qua manca Due secondi Vado subito A mettere giù Il trapano Ok Le accendiamo ancora Le taniche Bene Si si Le abbiamo tenute apposta Io direi di tenercene Ancora un po' Fra un po' Adesso arriverà L'assalto cattivo Con i dozer E tutto Questo qua Ovviamente muore Grazie Prego Ok Lì sopra Random Se riesci Aspetta Vediamo cosa ci sta qua Wow Ok Calma Adesso Stiamo calmi Perché abbiamo La droga Con le ammo C'è Maledetto Sto riavviando Random Curami Aia Soprati Velocemente Sono due persone Vai 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 Muori Grazie Prego Oddio Mi ha preso Il teaser Serio Dove Sopra Stronzi Ma dai Ancora Madonna Si vede niente Poi con ste cavolo Di flash Guarda Ancora Anche a me Altra gente Entrata Non vedo Non vedo niente È riaviato Io stanno 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 Sì ho riaviato Occhio che stanno Non si vede niente Ovviamente è da un minuto e mezzo Che giochiamo senza vedere nulla Oh ma sto shield qua ha rotto Ok Ricarichiamo le deagle Calma Ok Qua dietro è abbastanza a posto Ok Un overkill attivo Shot Ok Arrivano degli shield Però tutto abbastanza gestibile Aspetta Via Dai Fermate Bravo bravo Ok calma Oh mio dio Ecco Sono morto Ci sono due dozzer Allora Via da lì Un altro scappo ovviamente Morto Ok Nice Curami Come curami Eh si Ti copro io Ok Domino questo Di armatura Ok vai vai Il first in kit Ok Ah manetta proprio Ok nice Stiamo tenendo da dio Possiamo ancora usare le taniche Voglio dire Perfetto Madonna Mi hai tolto l'armatura Però non mi hai fatto danno Sono Sono Mamma mia Adesso Muori Questa Tanta gente qua sopra Sì Ok No Madonna Il taser è micidiale Sì vabbè poi c'è Ok copro io Ti oranno Vieni qua sopra Veloce Arrivo Ok Ok ti copro io Vai fai partire Dai vai vai C'è un botto di shield E c'è il medico Che guarisce tutti Rompipalle Vabbè tanto abbiamo I nostri due Amici Dai dai Sì abbiamo i nostri Finché sentite La voce di te Vabbè mi spacca Veramente Te lo giuro No l'avevo dominato Vabbè tanto Abbiamo ancora Abbiamo ancora due Tozza Tozza Più che altro i taser Sento E quelli che mi fanno paura Infatti Mi hanno fatto Oh Oh No 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 Aspetta No 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 Dai Random Aspetta Attivati Attivati Ti prego Sì Io sono Taser Taser Cioè il taser dietro Non lo vedo Due taser Sono grigio Scusa Scusami Che ti metti Random To Aspetta Ti metto il kit medico Vai Bravo C'è l'heel for stay kids Ti serve Non posso più Aspetta Ok Salva 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 Aspetta Sei fermo Perfetto Ole Allora ora tiro Sconcussione qua Dozer Tutto dozer Vabbè lo fare a me Morto Ok Altro dozer Minchia Cosa sta qua Ok faccio partire il trapano Coprimi Coprimi Che c'è un botto di gente Aspetta Non ce la fai Metto concussione Ancora Ancora Grande Bravo Ora ho bisogno di Madonna Madonna ma Oh è dura È dura È dura Raga Adesso sai cosa mettiamo Le taniche Ora però Aspetta concussione Aspetta un attimo Ok Io metto la tanica Ora Basta Mi ha rotto Troppa gente Adesso io metto Un'invece L'altra Ok Nice Metti l'altro E adesso si calma Un po' la storia E ci godiamo Un attimo Di un po' di calma Madonna quanta gente Che c'è sotto Calma Gestiamola Non facciamo i pirla Sotto si è aperto Andiamo a vedere Cosa c'è Butami la roba Denaro Tieni Sopra dalle scale Tieni Prendi Nice Vai subito Così almeno ci dà Il Escape Speriamo che No a parte che Dove dare i borsoni È sempre sopra È sempre sopra Prendi sempre F Lo prendo subito Ok Ok Ci sei random? Sì sì Sono concentrato Quando sto zitto Ok ok Minuto è qualcosa Vai via da lì Che faccio Qua Aspetta Bravo Sì con lanciagranate Addirittura ti sento Lo sei fatto Mamma mia Che ignoranza E niente Adesso dobbiamo attendere Il furgone Nel frattempo Se riusciamo Ci buttiamo dentro Anche la coca Che ci starà dentro Questa safe E ce ne andiamo Bellamente Raga Sette secondi Sniper Madonna mia Ok Cocaina La buttiamo Tanto Che ci costa A noi Tutto bottino Aggiuntivo 410.000 410.000 410.000 E 410.000 Adesso vediamo Appena arriva il furgone Intanto noi vedete Com'è bello Quando c'è la tanica Ok Finito l'assalto Noi abbiamo il nostro fuoco Adesso arriverà il furgone Ce ne andiamo Tranquillamente Only 30 second left Ragazzi Solo 30 secondi Di attesa Cioè dopo 40 minuti Che siamo qua a aspettare Che ce n'è sempre un altro Vai vai Ti ho dato una mano E lo sapevo Mi sono stato intanto Sei stato giù tanto Diablo No E beh Appena sei caduto Ti ho tirato su C'è l'escape Vai diablo Dall'altra parte Fai il giro Vai tranquillo Vieni ad andare da sopra Guarda quanto vado veloce Guarda quanto sei ignorante Guardalo Guardalo quanto sei ignorante Porca No Mi sa che ci muoio No Non sono morto Ecco Lo sapevo Indovina cosa è stato Il clocker di merda Mi ha preso mentre saltavo Concussione Un'altra concussione E mi tiri su Per non rischiare Adesso che da pirla Mamma mia Il clocker ragazzi Guardate il video Cioè veramente dal video Ma avete visto No Cioè non è normale Sta cosa E ce ne andiamo Yeah Ce l'abbiamo fatta No No Ma quanto sei pirla Yes Un altro Il secondo episodio Ragazzi Del Duo Loud È terminato Night Club Difficoltà Apocalisse È stato Un successo Abbiamo già pronto Il video Del terzo episodio Che sarà A mio avviso Bellissimo Quindi raga Veramente 999 Scusate Vero diablo 999 like Ragazzi Ovviamente scherzo Se li superiamo Va benissimo Tutto Ovviamente Noi vi ringraziamo davvero Guardiamo il payday Poi chiudiamo l'episodio Uh Luroboro Invece lui Giallo Ocra Blue Navy Due payday Più di merda Non potevamo vincere E a questo punto Non vi tutto più Penso che per questo episodio Possa bastare Da random Diablo È tutto Enjoy ragazzi Bravo Sta migliorando Sta migliorando Ho ho ho